Allora questo è un rincali e la cameriera mi ha insegnato come si mangia questo vittoria bisogna fare un buchino qua con i denti succhiare tutto il liquido che c'è dentro perché è liquido dentro c'è carne e liquido e poi mangiarlo intorno è bollente mi sto ostinando è buonissimo il sughetto prima lo perdevo sempre e poi si mangia il contenuto della carne si prende un pezzo di rincali e si pucia dentro in questo modo e poi si mangia ciao buongiorno buon mattino buon mattino fuori il tempo fa sempre schifo ma non è un problema questo qua queste sono le goccioline di pioggia che cadono sulla città di milisi ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.